Siamo a Gaeta Vecchia, qui abbiamo anche due suore, tu sei suora di clausura, incinta pure mi pare, no? E' bello, è bello, Gesù ha detto crescete e moltiplicatevi, invece non vogliono farci moltiplicare scendemente, è vero? E tu? Ho tre figli, è una suora prolifica, è bello, è bello, e tu non sei monaco, dovresti essere vestito da monaco, è bello sta cosa, vedo che c'è anche il rosario, sempre, e tu il rosario non lo vuoi? A due, ma mica te l'ha regalato Francesco, no? Francesco, il nostro Papa, no? Sì, grande Papa, abbiamo veramente un grande Papa, finalmente, finalmente un Papa Gesù, buon carnevale!